Prima uscita stagionale per il nuovo Milan che affronta il Merano Woman, formazione militante nel campionato di Serie C. Dallo Stadio Grilli di Storo, un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Tanti volti nuovi dal primo minuto, Copetti in porta, Piga in difesa e Loron davanti nel 4-3-3 disegnato da Mr. Gans. Torna in campo dopo un lunghissimo stop, rimante Iannusaite. Gira palla il Merano, arriva la riconquista di Cristi Grinchio, molto brava, il pallone è dentro, il taglio sul primo palio e arriva il gol proprio di Rimante Iannusaite che come abbiamo detto dopo il lunghissimo stop torna in campo, impiega tre minuti per realizzare il gol del vantaggio 0-1, subito Milan avanti. Piga, il controllo orientato, verticale, interessante per Dubkova, di fianco a lei Baluli, si butta nello spazio, ancora Dubkova, bello il movimento del 10, il traversone, Vigilucci in tuffo di testa, fa un gran gol e il gol del vantaggio, il gol del 2-1 del Milan, ovviamente col braccio dolorante, dolorante, si rialza con qualche problemino ma grande, grande gol di Valery Vigilucci che riporta avanti il Milan al decimo del secondo tempo. Sofia, bello il movimento, il centro in area, poi Dubkova di testa ancora, Valery Vigilucci sul finale per il gol del 3-1, doppietta di Valery Vigilucci e doppio assist anche per Dubkova, il Milan chiude qui dunque la prima uscita, un'uscita importante dopo tanto lavoro, i carichi di lavoro sono pesanti ovviamente in questa fase di stagione, ma il Milan vince e convince 3-1 sul Meran Woman. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.